Papà? Saveri, ho saputo che tragedia, che catastrofe! Grazie, è bello quando mi infondi ottimismo. Licenziamento nuovo, vita nuova. Sto andando alla casa di Macari. Ti offendi se ti dico una cosa, eh? Dimmi. Sì, cretino! Saveri Romanna, funzionario del Ministero dell'Interno. Scapolo. Farfallone. Proprio simpatica. Che vuoi fare davvero? Mi sono chiesto tante volte chi sono. E forse per la prima volta da quando sono tornata in Sicilia ho la risposta. Sono uno scrittore. A tutte le unità, ripeto, a tutte le unità. Nessuno scompare se non c'è qualcuno che gli vuole fare del male. Ci sono sempre dettagli strani attorno alle azioni degli uomini. Passione o lavoro? Lavoro. Guarda che sei una botte di ferro, ah? Così mi piaci. Che cosa sta succedendo qui? Fatto solo ed esclusivamente con il grande scrittore Saverio Lamanna. Fermatevi! Tu assomigli più a uno sviro che a uno scrittore. Che uno si alza dopo un colpo di testa è meglio scappare! Lo sai che sei proprio bravo? Dovresti fare lo scrittore. Non è importante il contenuto, ma come lo racconti? No! 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 No!